Quali sono tutte le tecniche utilizzate da Vegeta? Abbiamo il Gaelic Cannon! È un'onda di energia di colore viola utilizzata nel primo scontro contro Goku. Viene utilizzata da Vegeta nel tentativo di distruggere sia lui che la Terra. Goku lo fermerà utilizzando una Kamehameha con il Kaioken Quadrupla Potenza. Verrà poi successivamente usata contro la seconda forma di Freezer, senza però sortire alcun effetto. Proviamo il Big Bang Attack! È una sfera di energia che viene utilizzata la prima volta contro l'Androide 19. Poi abbiamo una delle tecniche principali di Vegeta, una delle tecniche più forti. Abbiamo il Final Flash, o detto anche in italiano Lampo Finale. È un'onda di energia di colore giallo e viene utilizzata la prima volta nella battaglia contro Cell perfetta. Anche se questa non sortirà alcun effetto, per il semplice motivo che Vegeta, per evitare di distruggere la Terra, mirò un pochettino più in alto al corpo di Cell, tranciandogli solamente metà busto. Così poi Cell ha potuto rigenerarsi. Verrà poi utilizzato contro Majin Buu, in realtà Kid Buu, mentre Goku preparava l'energia sferica. Mentre in Dragon Ball Super la utilizza contro Zamasu, che però riesce a sopravvivere anche lui al colpo di Vegeta, perché possiede l'immortalità. E infine verrà utilizzata diverse volte nel Torneo del Potere. Tecnica utilizzata una sola volta. Abbiamo il Maximum Flash, conosciuto in italiano anche come Lampo Massimo. Lo utilizza contro Cell perfetto dopo che quest'ultimo ha eliminato Trunks del Futuro. Poi abbiamo il Final Impact, conosciuto anche come Impatto Finale. Questa tecnica viene utilizzata contro Majin Buu Fat, la versione Ciccia Ciccia, durante il suo primo scontro. Sempre con il nostro caro Majin Buu, utilizzerà anche l'esplosione finale. Utilizzata per la prima volta contro di lui, sacrificando se stesso. Viene poi anche usata da Vegeta nel Torneo del Potere per contrastare il potere della distruzione di Toppo. Stavolta però, migliorando la tecnica, è riuscito a non perdere la vita. Un attacco insolito, potrebbe essere sconosciuto e più. Abbiamo l'attacco abbagliante finale. Anche se non canonica, viene utilizzata da Vegeta in Dragon Ball GT contro Super C-17. Infine, questa tecnica, la conosceranno già chi si sta leggendo il manga di Dragon Ball Super. Abbiamo quella che si chiama Controllo dello Spirito. È una tecnica degli abitanti del pianeta Yardrath, che permette una volta appresa di utilizzare tecniche come il teletrasporto, l'ingigantimento e la clonazione. Questa tecnica viene appresa da Vegeta per cercare di sconfiggere Moro. Queste dovrebbero essere tutte le tecniche utilizzate da Vegeta. Scrivetemi nei commenti se me ne sono dimenticata qualcuna e fatemi sapere quale tra queste è la vostra tecnica preferita. Scommetto che tutti direte il Final Flash. Sicuro, 100-100. E noi ovviamente ci vediamo a un prossimo video.